L'Italia è repubblicata Dichiariamo che il divorzio è un affermato contro Dio e contro i paesi La donna è certamente meno libera anche nello studio e nella conoscenza del mondo Mi prendo la pena Nelle coppie dei, hanno bravissimi problemi Possiamo partire da un'altra Finalmente sarà anche più facile proseguire la battaglia per la piena uguaglianza Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare In Italia è possibile divorziare Perché è meglio il divorzio delle botte con l'intervento dei vicini Con l'approvazione della legge 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza Da quel giorno migliaia di donne poterono abortire legalmente Così l'Italia si vaccina le democrazie occidentali in tema di diritti civili Grazie a tutti